Allora, sono Stefano Calabrese, narratologo, insegno nell'università di Modena di Gemiglia, di uno scuolo orso da Veni in Casa, una disciplina che si chiama Neuro Humanities, un po' di nuova generazione, cioè le narrazioni viste come utensili neurocognitivi, narrazioni di tutti i tipi, life narrative, cioè storie di vita e naturalmente finzioni letterarie. Qual è uno strumento che può insegnare a utilizzare bene queste narrazioni e quindi a fare in modo che noi diventiamo più pespicaci, impariamo a leggere meglio gli altri, impariamo a empatizzare meglio gli altri? Ecco, uno di questi strumenti è assolutamente contrario a tutta la psicanalisi del Novecento che ci insegnava a entrare in noi stessi e invece comporta proprio una fuoriuscita, raccontare noi stessi in terza persona, Cesare, Bello Gallico, quella è la funzione. Allora, con questa fuoriuscita da noi riusciamo a vederci meglio così come riusciamo a vederci negli altri.